Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati nel canale come avrete letto dal titolo oggi andiamo a realizzare su The Sims 4 la Space Family sì finalmente oggi tocca a loro quindi creerò Sara Valentino e Mamo chiaramente cosa succede in questi video la vera sfida è diciamo cercare di realizzare i visi il più simile possibile alla realtà perché poi diciamo che per gli outfit se non abbiamo proprio contenuti personalizzati precisi uguali spiaccicati comunque cerchiamo sempre di mettere degli outfit che più o meno possono andare bene per le nostre personcine quindi la sfida di oggi è appunto care di ricreare Mamo Sara e Vale per bene ci sarò riuscita non lo so raga devo dire che ho avuto difficoltà con Martino e attenzione perché non ho molti materiali personalizzati per i bebè quindi comunque a breve in questi giorni ci sarà il baby shower io sono curiosissima di sapere se questa volta sarà un maschietto non lo so una femminuccia chi aspetterà non lo so sarebbe molto bello vedere questa volta una femminuccina però vedremo lo scopriremo nei prossimi giorni quindi nulla raga io vi lascio alla continuazione del video con un po' di musica in sottofondo vi mando un grande bacio e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.